Ritorna in Italia dopo l'espulsione, clandestino arrestato in A1. A fermarlo sono stati gli agenti della polizia stradale di Arezzo che lo hanno intercettato nei pressi del casello Aretino lungo la carreggiata nord dell'autosole. L'uomo, un 34enne straniero, stava viaggiando a bordo di una Opel Corsa con targa polacca, con tre persone a bordo di origine giorgiane. Dai documenti di identità e dai successivi accertamenti effettuati attraverso l'acquisizione delle impronte digitali, gli agenti hanno potuto verificare come tutti quanti non fossero in regola con il permesso di soggiorno. Due sono stati espulsi e denunciati, mentre il terzo è stato immediatamente arrestato perché già espulso nel 2020 dalla prefettura di Roma. Aveva fatto ritorno in Italia prima dei cinque anni previsti senza la necessaria autorizzazione ministeriale. Stessa sorte ad un rumeno, 27enne, che è stato trovato sempre dalla postrada Aretina in A1 in possesso di un documento di identità ungherese falso e valido solo per l'espatrio. Per lui, cittadino comunitario, non è però scattata l'espulsione ma l'arresto in attesa di processo.